E' una delle tappe immancabili per il culto francescano, ma di sicuro i tanti pellegrini che in queste ore hanno raggiunto il santuario della Verna. Non si aspettavano questo paesaggio imbiancato. E' inusuale una nevicata così copiosa a maggio, a confermarcelo è il guardiano vicario del santuario. Di vedere la neve a maggio sì, non è usuale. Capita qualche spruzzatina così, ma questa quantità no. Ci sono stati però disagi per i vostri ospiti o comunque sia, insomma, problematiche anche per voi o no? No, per fortuna no, perché poi la neve è soltanto qua al santuario, già giù in paese, non c'è quasi niente, quindi nessun problema. Questi turisti che vengono dall'Austria avrebbero dovuto raggiungere assisi in bicicletta impossibili. ci dicono. Loro invece arrivano dal Brasile. Cosa ne pensa di questa nevicata nel mese di maggio? Mi piace, ma è molto freddo, ma è strano il maggio. La Verna è bella in tutte le stagioni, riesce proprio a offrire la sua bellezza proprio con ogni tempo, con la nebbia, col sole, con la neve, è sempre bella.